ciao a tutti amici del mio canale ecco un nuovo video dei prodotti finiti praticamente avevo un sacco di prodotti finiti però perché tanti mesi che non registravo poi li ho buttati via perché avevo la piena sul valcone e con caldo adesso è estate non volevo la spazzatura lì e li ho buttati via adesso ne ho pochi però volevo farvi rivedere se vi fa piacere e spero ci sia qualche prodotto che vi serva se lo conoscete già commentatemi qua sotto seguistemi su instagram se non mi seguite perché lì pubblico non tutti i giorni però qualcosa di ben più lo potete vedere e se vi fa cliccate mi piace grazie allora il primo prodotto è della cucina questo prodotto è il pril e questo qua mi piace molto la cosa che mi piace di più è che la trovo sempre offerta trovo offerta perché comunque i prodotti della cucina sono carucci e quelli della ramastoviglia fosse la ramastoviglia e c'è un altro prodotto che è sempre nello stesso infatti hanno due buchi perché sono bicolore e hanno doppia azione mi sembra comunque qua dicono 12 azioni fanno un sacco di cose sgrassano le sporco ovviamente e mi piace tantissimo reperibilissimo perché lo trovate in qualsiasi supermercato questo prodotto dell'insmercato lo sapete che io sono manda a questi prodotti delle codici mi piacciono tantissimi e queste sono un litro di prodotto costano pochissimi e sono buonissime questo diare la candellina spray io lo utilizzo nel batter perché al mattino o alla sera dopo che l'abbiamo utilizzato tutti lo spruzzo quando giù l'acqua adesso infettiamo al massimo poi ho trovato e ho utilizzato anche il lumino bianco però questo qua è detersivo più igienizzante una volta prendevo solo l'igienizzante e il detersivo da parte adesso che lo fanno tutto in uno mi conviene è caro questo prodotto costa su 7 euro e mezzo però io lo trovo sempre in offerta lo prendo in meno di 3 euro quando lo trovo ne approfitto ne prendo tantissimo un altro prodotto che ho preso perché quando non vado all'ins perché non ce l'ho proprio la mano e questo è svelto questo non ha bisogno di tanta recensione perché penso che tutte le nonne l'utilizzano infatti mia spessera l'utilizza da una vita da sempre e va benissimo rispetto all'aceto per lavare le mani ho comprato questo spuma di champagne a benessere la ricarica è buonissimo è un litro e mezzo di prodotto dura 12 mesi, 80% meno di plastica è un eco dettagente prodotto risparmio grandissimo io lo utilizzo verso la mia bottiglietta che è un bagno e quindi compro sempre la ricarica ogni volta che posso per i capelli ho provato questo prodotto oggi ho provato quello alla banana e da solo non mi toglie i nodi perché io ho i capelli un po' strani, i rebelli quindi però dopo di questo utilizzo un altro e va benissimo è un prodotto diciamo che tutti gli ingredienti sono naturali e dice che è un triplo uso è una maschera che poi la riciacque, no, non senza riciacque, trattamente senza riciacque però io la riciacque sempre è vegan, formula 96% bio degradabile, è matologicamente testato, olio e l'olio che ha sono vegetali e non ha silicone, quindi questo qua della ragnia l'ho trovato al supermercato, 98% che viene naturale, benissimo poi dell'X mercato hanno cambiato la confessione del prodotto, se quei prodotti che io compravo chi mi segue da tempo sa che prendevo quello lì intimo, il tappo era verde e la bottiglietta bianca adesso fanno questo bio detergente, per detergente ittimo, bio armon si chiama adesso, questa è la nuova bottiglietta sono 300 ml, comunque ce n'è tanto e dura 12 mesi, sempre di un'altra marca questo, l'ultimo rover alla camomilla, questo qua dice che è un estratto di origine naturale al 100% delicato, della rover comunque anche questi prodotti sono da tanto che mi sono messiato da una vita poi il video in passato vi ho fatto vedere questi qua che sono della poteca verde, sia il lavato da tagliate che il tonico il tonico che mi va bene per, vi dicevo dopo che uno si lava il viso con il sapone e tutto bisogna un po' rigenerare, riidratare e anche per chiudere i pori, va bene il tonico, questo qua non ha né slè, né olivinerale, né silicone né fraganze, né niente, né paraveni, questo qua è buonissimo lo sto utilizzando alla seconda bottiglia e questo ha l'avena, anche questo ha l'avena, sempre la stessa linea invece questo è un detergente prepele sensibile io lo utilizzo comunque anche per la mia, anche se non ho grossi problemi di sensibilità e il 98% origine naturale, 99% origine naturale, boteca verde poi utilizzo sempre della carnea, quello che trovo in offerta che mi va bene, lo utilizzo questo qua è un balsamo crema nutriente oliva mitica, tutto a posto con questi prodotti, io non mi posso lamentare io trovo che sono in tanto di prezzo, però io cerco sempre l'offerta sono fan dell'offerta e quindi cerco l'offerta, le cose le trovo, le prendo e via e sempre l'avena con 97% origine naturale questa crema, sempre l'oteca verde, sempre di quella linea che vi dicevo va benissimo, nutriente sto utilizzando, si può utilizzare sempre di notte io questa la sto utilizzando adesso di notte poi ho finito questi due serie visi della mia lavoro attua sono buonissimi è una beviera, è equilibrante si può utilizzare come contorno occhi o si può utilizzare anche come base per il trucco sono buonissimi mi trovo bene perché non ungono tanto ho finito questa della Kiko è un eyeliner questo eyeliner va bene perché se non lo togli tu, non si toglie nel senso che è resistente poi bisogna togliero bene perché ho con un olio o con qualcosa perché veramente si è un po' seccato perché è un po' lì, è un po' che non lo utilizzavo questo profumo la rosa della badega verde mi è stata regalata ma è buonissimo, buonissimo è all'arroda ma non è invadente non è un profumo che ti dà fastidio va veramente bene questo qua invece è della Berlin Instant Berlin anche questo super super promosso io non mi sto a parlare dell'ingrediente degli aromi, delle cose perché non sono in grado dovrei cercare su internet se non è semplicemente mi piace così niente questi sono i miei prodotti finiti se vi è piaciuto il video come dicevo prima cliccate mi piace, commentate vi raccomando e ci vediamo alla prossima addioooos